buongiornissima buongiorno benvenuti in questo nuovo blog in cui mi inizio veramente lavandomi la faccia ragazze questa dovete troppo provarla è stupenda la mousse detergente viso al mirtillo che toglie tutte le impurità io la amo lascia la pelle morbidissima maturo e la prima cosa che faccio non so voi mi lavo il viso poi inizio a fare colazione e tutto con calma se oggi prossimo a voi questo qua che bello il set viso alla canapa questo ve l'avevo fatto vedere nel video che ho fatto con dario a proposito guardate il video caricato ieri quello con dario perché vi ho dato una splendida notizia è anche un fantastico codice sconto per acquistare su calitashop.com vi avevo parlato di questi cofanetti che tra l'altro ragazzi ci sono rimasto malissimo perché non si vedevano bene quindi dopo ve li faccio rivedere tra cui questo alla canapa ovviamente inserendo il codice sconto risparmiate un sacco e li potete anche fare come regali di natale perché è troppo troppo carino anche per voi perché qua dentro c'è tutto quello che vi serve per il viso vi faccio dire questa alla canapa è ottimo perché è dilatante e anche illuminante è veramente fantastico ragazze spiegato tutto dietro ci sono spiegate proprio come utilizzarli è bello insomma anche come idea regalo ce ne sono tanti se vedete nella categoria regali su calitashop.com trovate tanti cofanetti di regalo anche per il corpo insomma non solo per il viso questo cofanetto è fantastico perché comprende sia la crema viso il siro contorno occhi e il siro per le labbra balsamo labbra la canapa adoro quindi adesso li vado ad utilizzare questa canapa ha preziose proprietà sia idratanti purificanti sebo equilibranti e anche anti age quindi anche distende la pelle elimina le rughette l'imperfezione è fantastica anche un buon profumo buonissimo bella contiene ovviamente sapete tante cose pregiate non solo l'olio di canapa adoro bella si spalma benissimo e si assorbe in fretta wow fantastica ok io come al solito sapete metto sempre anche un po di crema metto anche sulle mani perché ragazze la canapa è pregiata e adoro nutre a fondo la pelle però non unge vedete già si assorbita poi che bello poi su contorno occhi questo qua contorno occhi antilughe antiochiae antiperfezioni contiene olio di canapa anche estratto di ginkgo quindi rassodante quindi va bene proprio perché ha anche gli occhi gonfi queste cose qua e tè verde quindi sapete che il tè verde è anche un rimedio naturale contro le occhiaie ecco perché questo contorno occhi è favoloso contro le occhiaie poi io mi piace tantissimo la consistenza siero per gli occhi ragazze quindi io faccio così poi picchietto che si assorbe wow ragazze io questi sieri li adoro di dottor organica ce li abbiamo anche alla bava di lumaca su caritas shop.com e c'è anche il cofanetto così alla bava di lumaca dopo ve lo faccio vedere e poi sulle labbra oh mio dio questo è favoloso questo non è venduto singolarmente solo nel cofanetto ma è bellissimo io comprare il cofanetto solo per lui c'è un bassamo labbra rivitalizzante ovviamente oh che bello ha una consistenza tipo gelatinosa no vabbè adoro ragazze ma tipo luce da labbra che bello diventerà il mio bassamo labbra anche un effetto tipo rimpolpante che bello comunque ragazze questo cofanetto ve lo consiglio vi metto il link nel box di informazione sotto venite a vedere su caritas shop.com e approfittate col codice sconto adesso colazione mmm mamma mia cioè ragazzi ho fatto un pancake mega galattico buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog noi stiamo mangiando allora il mio amore l'ha spaccato a metà e praticamente ha fatto tipo un panino ma guardate com'è sofficioso ragazze adoro l'ho fatto con la farina di riso quando metto la farina di riso nel pancake viene morbidissimo guardate qua io non l'ho aperto guardate cioè sembra tipo un panettone vedete com'è soffice è fantastico e adesso la cremina al cacao siamo in dieta perché ieri con i nostri amici abbiamo sfragannato pizze non vi dico quindi oggi iniziamo con una sana colazione sperando di non di non farci prendere durante il corso della giornata e di continuare così ma di solito si inizia bene e si finisce sempre molto male allora amore poi ci sono qua i frutti rossi che li mettiamo sopra mmm non è troppo carino questo pancake vai amore va amore pure le goccione di cioccolata poi una bella spremuta di arancia che mio padre mi ha portato le arance bio quindi sono buone a un bel cappuccino di soia e chi sta meglio di noi ragazze buon appetito buona colazione grazie amore ho messo anche le stelline amore non sono bellissime questa stellina anche il mio amore amore questi sono di sossicadente non mi hanno mangiata ragazzi ecco tutti i fantastici cofanetti idee regalo che io tengo tutti sotto all'albero che mi piace un sacco questi sono fantastici come idee a regalo quindi ve li straconsiglio li trovate tutti su caritashop.com c'è questo all'olio di cocco che è fantastico ragazzi le ho messi qui sopra ovviamente l'ha venuto anche i bubi allora sono fantastici sono tutti cofanetti sono fantastici sia come idee a regalo sia per voi perché il prezzo è super conveniente poi avete sempre il codice sconto del video di ieri quindi andate a vedere il video allora questo qua è con crema corpo al cocco e crema mani al cocco è fantastico questo è il set alla bava di lumaca appunto dove c'è tutto quello che vi occorre la bava di lumaca è ottima contro l'impurità i brufoli i segni post brufoli le macchie della pelle le rughe è ottimo per tutto illumina tantissimo elimina le imperfezioni c'è questo che per le mani è buonissimo al miele esce anche il guantino in bambù c'è questo alla rosa che è anche un set ottimo visto giorno e notte anche è fantastico poi ci sono tutti questi qua che sono favolosi della saponaria anche questi li trovate se andate su caritashop.com nella categoria regali trovate tutti questi prodotti i profanetti sono bellissimi perché potete anche mettere qua il nome della persona tanti auguri per un beer dolce natale e poi c'è spiegato tutto come usare i prodotti ci sono anche tante frasi vedete lui è rudolf se lo vedete volare un dono profumoso sta per arrivare ci sono tutte cose scritte bellissime questo è il set corpo iris e zenzero e questo invece è il set corpo carota e vaniglia adoro vaniglia e carota adoro poi ci sono anche quelli piccolini insomma ci sono per tutte le tasche vedete questi piccolini sono anche carini anche qua potete scrivere il nome costano pochissimo ragazzi quindi vi dovete muovere perché noi li stiamo vendendo un sacco e poi ci sono questi qua che invece sono ancora più piccolini giusto dei pensierini e qua ci sono le maschere viso in tessuto adoro ragazzi appunto anti impurità purificanti questo invece è un set da viaggio troppo carino il travel kit eco bio adoro ci sono tutte le mini taglie dentro e niente ragazze venite su caritashop.com e vedete cosa è rimasto perché vanno a ruba grazie questo set mini taglie il travel kit eco bio è qualcosa di fantastico già la pochettina poi dentro ci sono tutte le mini taglie che questo me lo porterò ovviamente in viaggio tutti i detergenti e bagno doccia alla vaniglia c'è lo shampoo c'è anche questo che è un mio sapone adoro che meraviglia poi ci sono anche altre bustine di prodotti no vabbè è meraviglioso ragazzi adoro comunque sono tutti stupendi meraviglia ragazze ma anche voi vi innamorate quando vedete tutta la casa in ordine io vi giuro quando la mia stanza in ordine quando la mia casa in ordine sono in ordine anche io proprio mi sento una bellezza e poi mi piace vedere tutto il letto pieno di cuscini sono impazzita per questo rosa raga giuro lo amo follemente adoro che bello e qui ci sono io allora mi sono messa le cose che vi ho mostrato i nuovi acquisti che vi ho mostrato nel video di ieri shopping la nuova felpa le nuove scarpe si vede meglio guardate la nuova felpa che vi ho mostrato nel video di ieri le nuove scarpe adoro e i mitici giaielli carita gioielli il bracciale col cornino bianco il bianco raga va bene con tutto comunque mi piace tantissimo e poi mi sono messa la collana abbinata e gli orecchini vi amo ragazzi li state comprando in tantissime su caritashop.com quindi grazie già stanno andando a ruba tutti i nuovi gioielli se ancora non li avete visti venite a vederli su caritashop.com ci sono tantissimi nuovi gioielli stupendi tra cui questa pariur appunto completo con lana orecchini e bracciale guardate là dopo vi faccio vedere una cosa stupenda prima vi faccio vedere qua come ho fatto il look mi sono messa gli orecchini sono troppo belli e poi mi sono messa la collana nuova caritashop.com e mi sono messa un trucco molto naturale molto luminoso e questa tinta che è roses molto bella mi piace un sacco molto neutra rosa la trovate sempre su caritashop.com poi dura tantissimo quindi cosa che mi piace un sacco anche la la pelliccetta è nuova ovviamente ecologica e la nuova felpa yeee ragazzi adesso vi faremo vedere un po' Napoli tutta addobbata a festa se guardate dalla mia casa che bel tramonto diciamo che non rende dalla videocamera ma da qui è bellissimo dalle finestre si vede un tramonto stupendo vero amore il tramonto la mia casa è tutta pulita è bellissima che bello grazie al mio amore che mi dà una bella mano collabora un sacco ragazzi guardate che ma non si vede bene mannaggia ma dalla foto non si vede ma dal vivo vi giuro è arancione è un tramonto stupendo no non rende dovreste venire qui a casa ragazzi comunque è bellissimo tutta l'atmosfera natalizia tutto pulito tutto sistemato tutto bellissimo c'è anche la mia pupi 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 abbiamo anche tutti i cuscini di natale nuovi che pupi ammaccatutti è vero come si fa tu dovresti stare là quello è il tuo posto ragazze le tende ve le ho fatte vedere vero tu dovresti stare là mannaggia guardate mi ammaccata tutti i cuscini come si deve fare io non ho il coraggio di sgridarla questo divano è anche il suo questa casa è anche la sua è vero mamma cicci non fa niente che si ammaccano poi li buttiamo vabbè ma sai che sei bene sei felice sì che bello tu poi mi devi prendere in braccio a me capito come ce la fai amore dai cosa stai facendo ragazzi adesso io e mio amore vi sveleremo la meta del nostro viaggio oh mio dio il mio viaggio a New York andremo a New York ragazzi incredibile non sto più nella pelle non vedo l'ora di partire davvero è il viaggio che abbiamo sempre sognato di fare non saremo soli ma saremo con degli amici sì e sarà un viaggio stupendo tutti insieme ci divertiremo un sacco e sarà stupendo davvero non vedo l'ora perché ho una vita che sogno questo viaggio non sono mai stata a New York ovviamente neanche Dario anche io sarà la nostra prima volta e faremo Natale a New York Natale a New York dicono che è stupenda è tutta illuminata ed è stupenda però sarà gelida quindi io che sono freddolosa partirò con la mutanda di lana no a mezza manica oh mio dio io volevo andare vi dico la verità più ai Caraibi e alle Maldive però insomma con gli amici abbiamo deciso di andare a New York e mi piace come idea festeggiare là il Natale quindi sarà bellissimo stare tutti insieme e appunto sentire l'atmosfera non Natalizia la si sente di più perché vi volevamo chiedere di darci qualche consiglio su insomma cosa vedere noi staremo quasi dieci giorni più o meno e quindi faremo tutte le feste di Natale là e quindi volevamo sapere da voi se ci consigliate cosa vedere dove mangiare cosa vedere cosa fare sì abbiamo detto magari le ragazze ci consigliano quindi perciò anche ve lo stiamo dicendo qualcuno di New York che ci conosce dai è vero ci organizziamo ci incontriamo ci incontriamo qualcuno che ci ospita a casa a mangiare la vigilia di Natale la vigilia di un americano di qualcuno allora sì a noi piacerebbe molto insomma sperimentare queste nuove culture quindi piacerebbe tantissimo anche incontrare qualcuno di voi là a New York vabbè sarebbe fantastico quindi niente vediamo l'ora di partire che bello siamo felicissimi ci vediamo a New York ci vediamo a New York il nostro viaggio a New York sì ci vuole ancora un po' di tempo però non vediamo l'ora di partire sì nel frattempo dobbiamo ancora lavorare tanto però poi partiremo ciao ragazzi è affollatissimo amore amore oggi cerchiamo di mangiare bene dai anche se queste seppoline questo profumo di sfogliatelle di pastiera e pizzette fritte ci stuzzica molto ragazzi piccola sosta al ristorante per mangiare le candele al ragù napoletano buonissime a mia amore niente perché sta a dieta non è bella scherzo ragazzi ho preso una bistecca con le verdure e l'insalata e Dario ho preso i meloni che è un porcellone ha preso che ha preso amore un melone patate questo deve assaggiare sì devono essere buonissime buon appetito amore questo presepe è bellissimo sono belli davvero là c'è Michael fino a Daniele Michael Jackson fino a Daniele sembra vero incredibile no vabbè sfogliatelle guardate che meraviglia wow incassatine no ribabbà guardate qua il cannolo con gli struffoli ragazzi guardate che bello il mio outfit abbiamo appena finito di registrare un video di una sorpresa stupenda io e Dario l'abbiamo caricato qualche giorno fa quindi lo trovate su YouTube e io avevo questo outfit con tante cose stupende che non so se avete già visto vedrete nei video questa gonna è bellissima e ha tutti i cuori adoro e io indosso il mio bracciale corno stupendo tutta la pariur con i corni adoro Carlita guardate che bello quando mettete la collana questa con i corni rossi non ci fate caso ma Dario sta sistemando il mio amore allora la collana col corno rosso con gli orecchini il bracciale con il rossetto rosso vi giuro ci sta troppo bene adoro rosso e nero mi piace un sacco che ne pensate comunque ho tutti i peli di pupi perché sul nero si attaccano un sacco l'ho preso in braccio prima comunque adesso usciamo che poi stasera abbiamo una cena con i nostri amici che bello è bellissimo qui ragazzi vi consiglio di venire il castello di Lematola è fantastico vero amore ci sono un sacco di bancarelle è bello troppo bello ragazzi bellissimo è un posto magico ragazze amore pupi vedi umano bravo pupi bravo Dario sta insegnando a pupi a venire con il suono della campanella amore fai vedere la campanella nuova che abbiamo comprato guardate che bella è bellissima e poi abbiamo fatto questa pallina che è troppo bella ragazzi c'era una signora che dipingeva queste palline in vetro soffiato e c'è anche scritto sopra oh mio dio ho paura di romperla perché io sono un disastro Marcella e Dario amore che bella c'è proprio la casa guardate con il gattino dice che per fare questa palla ci mette un giorno questa signora quindi adesso la appenderò in un posto molto sicuro amore dove vogliamo metterla eh dove che non cade guardate che belli i nostri questi qua e l'orso questi sono nuovi li abbiamo comprati adesso bello anche c'è anche la rennina ragazze ho deciso di mettere la pallina qui guardate che bella è stupenda sta proprio bene sul nostro albero questi qua invece li abbiamo presi a Roma in quel negozio che fa appunto a Roma queste decorazioni bellissimo guardate che bello il nostro albero anche questo qua abbiamo preso in quel negozio a Roma è bellissimo il nostro albero è bello ragazzi il vostro albero invece di che colore è fatemelo sapere nei commenti questi sono tutti i pacchettini che potete acquistare su carliteshop.com tutti i pacchettini regalo cofanetti io ce l'ho tutti qua sotto l'albero li trovate su carliteshop.com ragazze vi saluto così buonanotte lasciate un like al video ciao family ciao mare saluta ciao we wish you a merry christmas oh 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 vediamo ferma Bubi ferma ferma lì e che vuole da testa bparty buonanotte buonanotte Caparlino putti